In questa video-lezione parliamo della Luna. La Luna è l'unico satellite naturale della Terra. In astronomia, per satellite, s'intende un corpo celeste che, anziché ruotare in maniera indipendente intorno al Sole, ruota intorno ad uno dei pianeti maggiori. I pianeti del Sistema Solare hanno quasi tutti dei satelliti in numero variabile. La Terra ne ha solo uno, che è la Luna. Si tratta di un satellite che è piuttosto grande in rapporto alla massa del proprio pianeta ed è in assoluto uno dei satelliti più grandi, vedremo, del Sistema Solare. In particolare, le sue dimensioni ha un diametro pari a circa un quarto di quello della Terra. Questo significa che esercita sulla Terra una certa influenza e questo è ben evidente se pensiamo al fenomeno che abbiamo già studiato delle maree. La Luna, pur essendo più piccola della Terra, ma tutto sommato poco più piccola rispetto al nostro pianeta, tramite la sua forza di gravità, esercita un'attrazione sulle masse liquide del nostro pianeta, sui mari, sugli oceani, causando i fenomeni dell'alta e della bassa marea. Inoltre, la Luna, grazie sempre alla sua attrazione di gravità, ha svolto un'azione, in passato come anche attualmente, di stabilizzazione della posizione dell'asse terrestre e del nostro moto di rotazione. In assenza della Luna, il nostro pianeta sarebbe stato soggetto, fin dall'inizio, ad oscillazioni molto più disordinate della sua orbita e della sua rotazione e avrebbe sviluppato un tipo di clima con forti sbalzi dove era impossibile lo sviluppo di forme di vita. Quindi possiamo dire che la presenza della vita sulla Terra, noi compresi, è dovuta anche alla presenza della Luna. Anche per i satelliti si definiscono un moto di rotazione e un moto di rivoluzione. Anche la Luna ruota intorno al proprio asse, esattamente come la Terra, e per quanto riguarda il moto di rivoluzione, si intende l'orbita che percorre intorno al suo pianeta, ovvero intorno alla Terra. Una particolarità dei moti della Luna è che questi due moti principali hanno lo stesso periodo. La rotazione della Luna intorno al proprio asse è piuttosto lenta, dura circa 28 giorni, Ma questo periodo di 28 giorni è anche quello che alla Luna serve per compiere un giro completo intorno alla Terra, un'orbita completa. Quindi i periodi di rotazione e di rivoluzione della Luna sono uguali. Questo che cosa significa? Significa che la Luna, a causa di questa coincidenza dei periodi dei due moti, mostra alla Terra sempre la stessa faccia. Quindi da Terra noi non possiamo vedere tutta la Luna, ma soltanto la metà che è rivolta verso di noi. L'altra faccia della Luna, la faccia nascosta, mai visibile da Terra, ha rivelato il suo volto soltanto in tempi molto più recenti, con le prime sonde spaziali lanciate nella seconda metà del Novecento. In realtà noi riusciamo a vedere un po' più di metà della superficie lunare, perché essendo, come vedremo, inclinato il piano della sua orbita, ogni tanto possiamo sbirciare al di sopra e al di sotto, e inoltre la Luna compie proprio delle piccole oscillazioni, che si chiamano liberazioni, che ci consente di vedere una piccola parte della sua faccia nascosta. Quindi possiamo dire che la parte a noi visibile della Luna è più o meno il 60%. Oltre a ciò, possiamo considerare come altro moto lunare il moto di traslazione, ovvero quello tramite cui la Luna, non in maniera diretta, ma insieme alla Terra, gira anche intorno al Sole. In questa mappa possiamo vedere le principali formazioni della superficie lunare. Innanzitutto occorre dire che la Luna è un corpo interamente roccioso e un corpo privo di atmosfera. L'assenza di atmosfera, unita alla lentissima rotazione intorno al proprio asse, fa in modo che si creino delle differenze notevolissime di temperatura tra la zona illuminata dal Sole, dove si arriva a centinaia di gradi sopra lo zero, e quella invece che ha il buio, che arriva a temperature altrettanto alte ma sotto zero. Unitamente all'assenza di atmosfera, queste escursioni termiche rendono la Luna un ambiente estremamente inospitale. Per quanto riguarda quello che vediamo in questa mappa, che riguarda la faccia visibile della Luna, qui osserviamo le tre formazioni principali della superficie lunare, le quali sono i mari, le montagne, quindi ci sono delle catene montuose che vide già Galileo Galilei, e i crateri dovuti, che sono le tracce lasciate sulla Luna dall'impatto con corpi celesti, meteoriti, asteroidi di piccole e medie dimensioni che sono avvenuti nel corso di milioni, anzi di miliardi di anni dalla sua formazione. Per quanto riguarda i mari, sono le zone più scure della superficie lunare che riusciamo a vedere anche a occhio nudo. Questo termine va messo tra virgolette, perché ovviamente non si tratta di mari fatti di acqua, perché a causa delle sue condizioni non può esistere acqua allo stato liquido sulla superficie lunare. Diciamo che in realtà sono delle ampie pianure che sono scure in quanto sono ricoperte di un materiale roccioso chiamato basalto che deriva dalla solidificazione della lava. Noi sappiamo che attualmente la Luna è un corpo morto da un punto di vista geologico, ma milioni, miliardi di anni fa, a causa della sua maggiore vicinanza alla Terra, per via degli effetti di marea, avvenivano delle eruzioni vulcaniche. Era interessata da un'attività vulcanica piuttosto intensa e la Terra, che con la sua attrazione, questo lo vedremo anche nei satelliti di altri pianeti, riusciva a spaccare la superficie solida della Luna e a far fuori uscire la lava. Questo materiale lavico solidificato è analogo a quello che ricopre il fondo degli oceani terrestri, quindi anche se non c'è acqua, qualcosa in comune a livello di composizione rocciosa del fondo, diciamo, ce l'hanno qualcosa in comune con gli oceani terrestri. Oltretutto, la superficie di questi mari lunari è ricoperta da materiale roccioso in polvere, detto regolite, che assorbe fortemente la luce del sole, ne riflette poco, e di conseguenza i mari sono queste zone pianeggianti più scure. Prendono, come vedete, dei nomi piuttosto di fantasia, c'è il mare della serenità, il mare delle piogge, il mare delle tempeste, dopodiché scorreremo un attimo questa mappa. Per quanto riguarda le catene montuose, anche queste sono presenti sulla superficie lunare e prendono i nomi delle principali catene montuose terrestri. Qui c'è il Monte Caucaso, ma ci sono anche le Alpi, gli Appennini lunari, i Monti Carpazzi lunari. Rispetto alle montagne terrestri, sono più alte e hanno le scime più aguzze, ovvero più appuntite. Sono più alte in quanto la gravità della Luna è minore di quella della Terra, perché ha una massa minore e quindi le montagne si possono sviluppare maggiormente in altezza. Inoltre, mancando l'atmosfera, mancando le piogge e mancando l'erosione che sulla Terra arrotonda le forme delle montagne, bene, sulla Luna mancando tutto questo, potendole vedere da vicino, vedremmo delle scime più aguzze, più appuntite, delle pareti più ripide. I crateri sono prodotti dall'impatto di meteoriti. Noi sappiamo che all'inizio della sua formazione il nostro sistema solare era molto meno tranquillo. Questi impatti erano molto più comuni. Quindi sono queste voragini di forma grossomodo circolare, che adesso andiamo a vedere meglio nella animazione. Ecco qua, in questa animazione andiamo a vedere che cosa osserveremmo sorvolando la superficie lunare. Vediamo tutte queste voragini dovute ad antichi impatti di meteoriti, di forma tondeggiante, si chiamano crateri, e come vedremo riproiettando un attimo la mappa, anche loro sono stati battezzati però con nomi di personaggi famosi dell'età antica e moderna, legati ovviamente al mondo della scienza. La Luna non è stata particolarmente sfortunata. Sicuramente anche la Terra ha subito in passato molti impatti da parte di asteroidi e meteoriti, ma dato che sulla Terra sono presenti degli agenti come quelli atmosferici e l'acqua, con la loro attività erosiva, grazie alla loro attività erosiva, così possiamo dire, la traccia di questi antichi impatti sulla Terra si è cancellata. Quindi abbiamo pochissimi crateri da impatto ancora visibili sulla Terra. Essendo la Luna priva di atmosfera e priva di acqua, invece tutte queste tracce si sono conservate e sono ancora visibili impatti che risalgono a miliardi di anni fa. Nell'immagine a destra vediamo la faccia nascosta della Luna, che ha un aspetto molto diverso da quella visibile a sinistra. Vediamo infatti che la faccia nascosta della Luna ha pochissimi mari, queste zone scure sono molto poche, ed invece è quasi interamente ricoperta di crateri. Una delle principali caratteristiche della Luna osservata da Terra è che presenta il fenomeno delle fasi, ovvero si presenta con facce diverse, a volte come disco pieno, a volte come falce più o meno sottile, a volte addirittura per alcuni giorni non la vediamo per niente, neanche se il cielo è sereno, e tutti questi vari aspetti o fasi si succedono uno all'altro secondo un ciclo della durata di circa 28 giorni. Il fenomeno delle fasi è legato al fatto che nella sua orbita intorno alla Terra la Luna occupa diverse posizioni rispetto alla Terra e anche rispetto al Sole, perché la luce lunare, come ricordiamo, è luce riflessa dal Sole. Di conseguenza, a seconda della posizione in cui si trova durante l'orbita, bene mensile, grossomodo intorno alla Terra, la porzione del disco lunare illuminata dal Sole cambia. Il ciclo lunare inizia con la fase cosiddetta di Luna nuova. In questa fase, come vediamo, qui c'è la Terra con un osservatore, la Luna è interposta fra la Terra ed il Sole. In questo caso, diciamo, nei primi giorni quindi del mese lunare, la Luna nel cielo non risulta visibile. Il motivo non è da ricercarsi nel fatto che il Sole illumina l'altra faccia, perché altrimenti vedremo un disco nero che occulta le stelle. In questa fase di Luna nuova, invece, la Luna sorge insieme al Sole e tramonta insieme al Sole, per cui nel cielo notturno non è proprio visibile. Questa fase si chiama fase di congiunzione. Andando oltre, ecco qui, andiamo a vedere. Facciamo conto che la Luna abbia percorso un quarto della sua orbita e dalla fase di Luna nuova, dopodiché la Luna comincia ad apparire in cielo come una falce, bene sottile, fino a quando la vediamo illuminata per metà nella fase di primo quarto, dopo circa una settimana dall'inizio del ciclo lunare. Questa fase è chiamata anche, o per meglio dire la posizione della Luna in questa fase, è anche chiamata posizione di quadratura, perché se congiungiamo idealmente la Luna, la Terra e il Sole, in questa fase, va bene, vediamo che si forma un angolo retto, ovvero un angolo di 90 gradi. In questa fase, come vediamo a destra, vediamo il disco lunare illuminato esattamente per metà. inoltre, la iniziamo a vedere nel cielo notturno, perché vediamo che la Luna è presente circa per metà della notte, ci arriva nel suo punto culminante al tramonto del Sole e tramonta a mezzanotte. Il disco lunare in questa fase è illuminato per metà. Andando ancora avanti di un quarto di orbita, vediamo che la Luna, al metà del suo ciclo mensile, arriva esattamente nella posizione opposta a quella di Luna nuova, ovvero nella posizione, si dice, di opposizione, perché se congiungiamo idealmente Sole, Luna e Terra, vediamo che si forma un angolo piatto, ovvero di 180 gradi. In questa fase, noi vediamo la Luna piena, ovvero vediamo il disco lunare completamente illuminato, perché in questa fase, diciamo, di opposizione, vediamo che la Luna si trova in posizione tale da fare in modo che la metà rivolta verso la Terra sia completamente illuminata dai raggi solari. Inoltre, in questa fase, il disco lunare è visibile in cielo per tutta la notte, perché in questa fase, la Luna sorge esattamente quando il Sole tramonta, è alta nel cielo a mezzanotte e tramonta all'alba del giorno successivo, poco prima o mentre sta sorgendo il Sole. A partire da quel momento, ecco, noi vediamo delle fasi intermedie in cui la parte illuminata del disco lunare via via diminuisce, quindi dopo la Luna piena, la seconda metà del ciclo è chiamata fase di Luna calante. Arriviamo ad un certo punto alla fase esattamente intermedia, che è quella di ultimo quarto, che è un'altra posizione di quadratura, in cui quindi abbiamo il disco lunare illuminato per metà e un angolo che si forma di 90 gradi tra Sole, Terra e Luna. In questo caso, la Luna è visibile nella seconda metà della notte, ovvero sorge a mezzanotte, è alta nel cielo all'alba, non la vediamo più, la vedremo tramontare a mezzogiorno, ma non la vediamo perché c'è la luce del Sole. Un'altra settimana e il ciclo ricomincia con una nuova congiunzione e un nuovo novilunio.